...capacità di darti delle idee, di fantasia. Pensa che leggero che nell'82... Sì, stacchiamo prima su... come avete detto che ti chiami? Ingrid di Lenia Gurnari. Ah, e sei un esponente di Pignamonamur. Io sono un esponente di Pignamonamur, sono vieta di poter collaborare con loro, alle loro attività tiche e culturali. Noi siamo del Sanremese e siamo soci, e vorremmo collaborare anche noi, però sei una pittrice. Io veramente sono una costumista. Ah, sì, sì. Una costumista. Una costumista. La filografica lo sapevo io. Caspita. E quindi, vedi, così inquadriamo anche la nostra... Susa, che abbiamo conosciuto oggi. Nostra si fa per dire perché siete sempre vostre. Allora, scusa che stavo dicendo che è la costumista. Io le farò un omaggio, proprio questa cosa che non sapevo. come fosse, abbiamo acquistato un tempo fa all'asta del... Abbiamo mostrato a Susa la sede. Si chiama Martini a Pignamonamur. Adesso scendiamo a vedere la sede del Sanremese. E salutiamo questi due simpatici signori.